Scamico Ampiti Ma dove sabbi tu hai studiato? Ma dove si chiama? Giustifica Oggi sentiamo Allora, Ricciardo è l'interrogato Giustifica Non ti puoi giustificare dopo che ti ho chiamato, dai Due Antonelli interrogato No, però adesso ho in preparazione Vorrei dire giustifica No, no, direttamente in preparazione, non do niente Che cosa vengo a fare neanche la giustifica? Andando faccio la collezione, metti in preparazione, metti la I, di, di imbuto Hai portato la giustifica scritta? Sì Vediamo Due Adesso ho finito le giustifiche sul libretto, ho giustificato su un po' di carta, va bene lo stesso? Sì 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 Ecco Ma non su questa carta Te la regalo, così ti pulisci il culo quando vuoi Fammi limite di x che tende a più infinito di radice quadrata y alla seconda più un mezzo x al quadrato No professore Mi giustifico Ma non ti puoi giustificare ogni volta che ti chiamo, soprattutto dopo che ti ho chiamato Ti prendi nell'esimo due Sabinazzi Ehi Puoi venire l'interrogazione oggi? Eh professore, ieri non ho potuto studiare Se vengo all'interrogazione oggi, prendo foto ben mezzo e poi mi rovino alla media Va bene dai, stai tranquillo, verrai domani magari, tanto oggi verrà Ricciardelli, vieni all'interrogazione No professore, anche io ieri non ho potuto studiare eh Dai zitto, ti prendi un bel due No, fai più bene, devi studiare sempre Buccialla madre Ascolta Ricciardelli, è passato un mese, questa giustifica me l'hai portata, vero oggi? Eh no, non so Ma perché non me ne portano e non mi rispettano mai Antonelli Ricciardelli Ma lei è assente Ma professore, scusa di ritardo, tanta roba di pochi minuti Posso andarmi a sedere come se non lo so faccio? No, 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 sono alle 8 e 0, 3 minuti e voglio la giustifica adesso Adesso? Sì signor È morto mio nonno Anche Mi dispiace, non potevo mai immaginare Va bene, adesso Ma quanto mai, non è vero Adesso è morto mio nonno Eh professore, io per oggi non ho potuto studiare perché sono stato male Stavo andando a letto con la broccata Ancora i risulti di buco Ho chiesto i compiti agli altri Ho proprio chiamato tutti quelli della classe Però lì su mi hanno detto No, non c'è niente, non c'è niente Non ti preoccupare che il professore non dice niente Allora mi hanno detto che non c'è niente Come? A che chiamato? Scusa Arciandelli Oh professore Non è vero 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 Basta silenzio Due a entrambi Ecco il passore Non è vero Adesso A te due meno e a te due più Sì Marco Orso La guerra è il registro elettronico del professore O mi cancellano tutte le giustifiche e le preparazioni Vediamo, vediamo, vediamo Spettacolo Vediamo Devo aver sbagliato qualcosa Che l'U-Porn gli ha mandato Devo sbagliarmi Ma questa è la firma di tua madre Voglio che le regnate a vestire Sta senza pensiero Devo fare i tu Homebembert Ma sta nella buccia la cazzo Strunz Tappoooo Ancora noi Tappoooo Ancora noi Tappoooo Ancora noi Bella French Wall Boys C'è Quest'ora tipida giustifica Se il video ti è piaciuto metti mi piace Condividi e iscriviti al canale Se questo video raggiunge 25 mila mi piace Vi pubblichiamo anche il backstage Questo è French Wall L'unico Originale A senza pensi Desserti 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 Desserti